Siamo qui a questa nuova edizione delle giornate sanite di riabilitazione, il quattordicesimo appuntamento. Il tema che abbiamo scelto quest'anno è la riabilitazione, un punto tra tradizione e innovazione. Infatti si parlerà delle nuove tecnologie, di robot, di esoschelet, di realtà virtuale, di metaverso. Tutto quello che ci può servire per migliorare l'approccio riabilitativo nei confronti dei pazienti. Il tema è importante e innovativo, però come dicevo anche dall'introduzione che è stata fatta al corso, non bisogna dimenticare quello che è la tradizione, tutto ciò che abbiamo appreso dal passato. E soprattutto non dobbiamo dimenticare che le terapie devono essere umanizzate e quindi con un rispetto etico senza che questo possa ovviamente non tener conto del rapporto tra paziente e riabilitatore che a prescindere da qualunque nuova tecnologia, qualunque macchina non potrà mai sostituire ovviamente quello che è il rapporto tra riabilitatore e paziente.